E' stato Palazzo Sersale ad ospitare la conferenza stampa del Festival delle Serre di Cerisano giunto alla sua 29esima edizione. Nel corso della conferenza è stato illustrato nei dettagli tutto il programma con tante sorprese e novità. Accoglienza, divertimento, ci si aspetta il nostro grande festival pronto ad accogliere i tanti visitatori che come ogni anno vengono ormai da 29 anni a Cerisano e quindi è il nostro appuntamento magico e speriamo che vada tutto per il meglio. La novità è qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato l'offerta dell'estate dei grandi eventi che ho visto per la verità in giro per tutta la Calabria per fortuna in tutti i territori c'è stata musica, ci sono stati spettacoli. La differenza di Cerisano è che qui si realizza un festival otto giorni pieni con 60 eventi divisi in tante sezioni con una sovrapposizione nelle diverse piazze. Quello che noi realizziamo è mettere in scena il nostro borgo, il nostro paese e tutto diventa un corollario e speriamo che tutto sia di gradimento.